www.feyyaz.tv Grazie. 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 Ultima gira. Ultima gira. Ultima gira. E' un altro giro, eh. E' solo 87 che è arrivato. Questo è il secondo. Bravo, bravo. 61, numero, 76, 64. Attenzione, i partecipanti alla gira. Presso la partenza. Naturalmente noi andiamo alla gara al nere. La gara a misca. Ultima gira. 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 Grazie a tutti.